Al centro l'arca di Spoltore, finale nazionale del Festival della Melodia che ha visto il successo di Lorenzo Di Giovanni su Genis Scatena. Dieci concorrenti con un grande spettacolo. A commentare le fasi di questa 35esima edizione è il produttore discografico Angelo Anselmi. Che finale è stata? Come sempre è una finale incandescente perché i ragazzi sono stati tutti quanti bravi, le canzoni originali e questa è una cosa bella, bisogna invitare tanti giovani a cantare nuove canzoni, a scrivere, ad impegnarsi perché è bello trasmettere agli altri quello che si pensa. E poi ovviamente c'è chi è più fortunato, magari le canzoni se le fa scrivere da qualcun altro, però è importante cantare canzoni originali perché le cover sono belle ma lasciamole ai proprietari. Cosa ha avuto di più Lorenzo Di Giovanni, il vincitore rispetto agli altri? Nulla da togliere agli altri che hanno partecipato a questa finale perché ripeto sono stati tutti tutti molto bravi e credo anche che la votazione della giuria sia stata molto difficile. Forse è la spuntata Di Giovanni per qualche voto, uno credo in più o due, non so, non ricordo. Però Di Giovanni perché? Perché ha cantato molto bene, è un ragazzo che si impegna, è un ragazzo che vuole fare solo quello, il cantante. Qual è l'augurio di Angelo Anselmi a coloro che prenderanno parte al nuovo tour? Beh innanzitutto l'augurio è di fare belle cose ma soprattutto di iscriversi in tanti perché è un'opportunità interessante, è un'opportunità che da sbocchi a molti, molti lo hanno avuto, il successo, poi quello che poi vogliono tutti oggi è il successo. Però stare con i piedi per terra, partecipare in massa il più possibile al Festival della Melodia perché è una bella scuola questa, però continuare anche a studiare, a studiare tanto la musica italiana soprattutto.